C'è un po' di timore con questa escalation di contagi. Sì, è vero, però la necessità di vivere questo Natale forte, penso che tutta la gente lo desideri molto. Io lavorerò, quindi se non farò con la famiglia sarà appuntata sul lavoro. Sarà un Natale un po' più, mi viene da dire timido, perché sì, la gente ha paura, però ha voglia di stare fuori. E' un po' più caldo, nel senso che si cercherà di stare ancora di più in famiglia, anche se Natale vuol dire famiglia. C'è paura dei contagi? Ancora sì, ancora sì. Ne abbiamo, io che ne ho una neonata di quattro mesi, sto sempre molto attenta a questa cosa. Veramente questo anno sarà una cosa più famiglia intima, più intima, piccolina, però va bene, è normale così. Va bene anche così, il prossimo anno sarà diverso, spero, Dio. Senz'altro c'è un clima di paura, starò con la famiglia, sono tutti vaccinati, siamo in sei, quindi non c'è problema. Allora magari provvederete a farvi un tampone prima del pranzo di Natale? Probabilmente sì. Ve lo aspettavate un Natale così, ancora con le restrizioni, con la paura dei contagi? Beh, questo no. Comunque mi ho fatto i due vaccini, adesso faccio anche il terzo e ora mi sento tranquilla. Io sono ristoratrice, onestamente speravamo andassi in maniera diversa quest'anno, però la cosa difficile è forse non riuscire ad avere una prospettiva, a programmarsi anche per quel punto del settore in crisi e quindi avere una visione a lungo termine. Ce l'aspettava un Natale così, con le restrizioni, con la paura dei contagi? Abbastanza scontato direi, cioè con tutta questa paura un po' che ci hanno messo. È una realtà, comunque è una realtà e quindi per forza deve essere così. Ma essere abbastanza vuota, come penso tutte le altre città. Che Natale sarà? In famiglia, pochi ma buoni.